Salve ragazzi, trentottesima lezione del corso di trading esportivo da TeamChange, siete in compagnia di Max Zardberg. Oggi vi volevo parlare del primo step del maso trading perché inserendo le consecutività sapete meglio di me che mi preoccupa principalmente il primo step e l'ultimo. Nel caso per esempio inserisco il 16 15 15 quindi le 15 i risultati consecutivi possono essere preoccupanti per il primo step o per l'ultimo se la battita termina 00. Quindi andiamo a vedere qualche scamotage per aggirare il discorso. Volevo nel frattempo ricordarvi di, se ancora non l'avete fatto, di inviare la vostra adesione al gruppo di Facebook sempre adesportivo una community di più di 1700 trader che come voi condividono questo hobby. andiamo avanti. Eccoci il nostro famigerato mass trading. Andiamo in trading. Guardate la prima la prima domanda è a che servirà questo step iniziale in cui viene indicato punto step iniziale mezzato. Intuitivamente è ovviamente una riduzione del primo step per appunto ridurre la possibilità che ci sia una segnatura in quel primo step. Esempio 100. Esempio qualsiasi eh. Quota trading qualsiasi 18 e copertura ipotesi 2 e 20, 16, 15. Consecutività ad esalto ovviamente la inseriamo proprio per aumentare, 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 cioè inserendo le consecutività abbiamo come dicevamo la preoccupazione del primo step e dell'ultimo step. E quindi non avrebbe senso selezionare lo step di mezzato in un masa per esempio tradizionale. Lo selezioniamo proprio per farvene vedere le caratteristiche. guardate il primo step da 18 a 16, 50. Se invece se invece avevamo un masa normale mettiamo nelle stesse corde senza la selezione appunto senza la spunta del masa di mezzato. Classo 100, corda 18 e copertura 2 dell'over, becca 16, 15. E non abbiamo selezionato il step di mezzato. guardate la chiusura da 18 passava a 15 quindi 3 e 3 punti di differenza. Mentre lo step di mezzato è un punto in mezzo. Quindi eh abbiamo lo stesso step iniziale ovviamente cambia il leggera dell'uscita delle dello step ma il fatto che abbiamo accorciato lo step ci permette appunto di essere dentro per minor tempo perché un conto può stare da 18 fino a 15 e un conto da 18 a 16, 50 come primo uscito. E' ovvio che per riequilibrare il tutto il secondo step termina comunque a 12 e 55 quindi avremo un secondo step più largo ma una volta che abbiamo superato la consecutività a noi interessa relativamente. Infatti se andate a vedere la resa ci troviamo nella stessa identica condizione quindi senza intaccare nulla abbiamo ristretto il primo step di mezzato appunto la larghezza quindi la durata che intercorre tra 18 e 6, 50 e 18, 15 quindi non è un discorso temporale come ho detto più di una volta quando parliamo di massatrading non possiamo parlare di tempo non sono minuti ma ovviamente in un trend discendente discendente con lo 0,0 che sta appunto andando avanti è ovvio che se rimango sul mercato per un punto e mezzo e questa questa permanenza sarà minore del tempo che passa da 18 quando arrivi fino a quota 13 quindi il primo la prima accortezza appunto questo step di mezzato che ripeto non ci costa niente a livello di resa quindi rimaniamo comunque con la stessa combinazione con la stessa resa le stesse coperture tutto uguale e soltanto che abbiamo modificato l'uscita accorciandola a 4,16,50 mentre dalla seconda in poi riequilibriamo il tutto e appunto rifacciamo gli stessi step dopo 12,55 la chiusura del secondo step andiamo per il terzo 10,48 come vedete sono tutti uguali quindi il primo scamotage ovviamente è questo la seconda accortezza è nell'avere andiamo a vedere le ricordazioni di una partita sempre quella di di oggi di questo momento andiamo ad inserire appunto una partita andiamo ad inserire appunto una partita andiamo a vedere le ricordazioni di oggi andiamo ad inserire appunto una partita l'ipotesi facciamo un base in brecche, casso 100, lo 0 a 23 facciamo in brecche, ma giusto per farvi vedere non è una partita che porteremo avanti, era solo per far vedere appunto la caratteristica del primo step e quota 23, la copertura la facciamo con 9,2,5 quotazione 9,2,5 eccola qua, 9,2,5 1,59 23,1,59 e lo stesso 16,15 resa alta 15, mettiamoci il primo step di mezzato e andiamo a vedere quello che sta succedendo in pratica mi dice di giocare in brecche 17,69 finché non mi tocca quota 20,96 quindi fino al 21, da 23 fino al 21 sono fuori per questo mezzo step, poi il secondo mi termina a 15,54 ma superato appunto questo 21 ovviamente non ho più la consecutività e quindi sono piuttosto tranquillo, in questa giocata abbiamo inserito la copertura dell'over 2,5 che è una partita con lo 0,0 molto alto quindi ritengono molto probabile questo over 2,5, a noi sta bene che loro ritengono molto probabile e non siamo noi qui come sappiamo a fare value oppure a pensare di essere più furbi del bookmaker dell'asiant di riferimento pinnacle e dell'exchange che si adegua a questa quotazione quindi per noi è giusto questo over e quindi la nostra copertura sarà di 82,31 su quest over però ripetiamo siamo dentro per questi 17,69 quindi può sempre succedere che possano segnare anche il primissimo minuto battono da metà campo prendono assegnano se segnano e questo G ovviamente rompe le scatole per questo 17,60 ma abbiamo la copertura dell'over che la quotazione come sapete dall'over 2,5 diventa la copertura dell'over inferiore quindi prendendo sappiamo che prendendo il gol nel primissimo minuto sappiamo che questo quadrato 1,59 scenderà ma fino a quando scenderà lo abbiamo già accennato più di una volta scenderà fino alla quotazione dell'over 1,5 e come vedete si attesta a 1,18 1,19 in questo caso quindi la nostra puntata in back di 1,59 la possiamo benissimo tornare a 1,19 a primissimo step andiamo a vedere quanto ci porta in contabilità questo movimento se il che di 82 e 31 back 1,59 è uscita a 1,59 perché il lover 2,5 se segnano prenderà la quotazione dell'over 1,5 apriamoci l'applicazione allora inseriamo il la quotazione dell'over 1,59 lo stake 82,3 lo stake 82,3 lo stake 82,3 lo stake 31 e la quota uscita come abbiamo visto è 1,19 perché la quotazione dell'over 2,5 al momento del gol ovviamente riceverà la stessa quotazione che arriva in quel momento l'under 1,5 quindi troveremo il 2,5 a una quota 1,19 guardate qui ben 27,67 euro come vedete noi abbiamo giocato questo invece nel back del manual del manual del manual 7,69 questo ci permetterebbe a priori cioè sapere già da subito che in quella prima operazione noi possiamo azzardare anche o tenercela come assicurazione e quindi questo è lo prima o dopo e quindi avere un gain maggiore perché ovviamente incassiamo 27 dall'operazione questo l'abbiamo preso per live l'over 2,5 al momento del gol mi porta a 27,67 l'unica giocatoria che ho in palio è il back 0,0 per 17,69 quindi automaticamente ho un surplus di 10 euro quindi posso non solo tutelarmi del step del primo del primo step del Masa che mi creava la preoccupazione della consecutività quindi a sto punto mi interessa soltanto se la partita termina 0,0 nelle consecutività io prima l'ho salvato ma fatto questo il discorso di avere quest over di 82,31 a 4,1,59 che mi dà un profit di 27,67 mi permette anche non solo di giocare 17,69 e portare a casa il gain ma lato che lo gioco in che lo gioco in in mezzo step questo è lo step come dicevamo normale e il primo step chiudeva il mezzo step chiudeva a 21 invece di avere a 18,91 quindi a 19 quindi il primo step normalmente è 23 fino a 19 lo faccio con mezzo step diventa 23 e 19 poi allargo le situazioni in maniera di chiudere sempre il secondo step a 15,54 quindi chiudiamo operiamo con il mezzo step quindi abbiamo 21 e questi 17,69 come dicevamo sono a rischio avendoci però l'over 2,5 che mi copre fino a 27,69 e mi avanzano 10 euro o mi ritengo che mi mi dà un più che onesto gain in quell'ottica lì oppure posso risolvere un trattamento particolare a questa free bet in pratica se io faccio la prima giocata invece di fare le 17,69 dato che l'over mi copre fino a 27,69 gioco 27,69 di cui 17 sono parte di questa operazione e 10 euro non posso benissimo come dicevo giocarmeli a quota 23 quando mi arrivano a quota 19 accumulo una free bet sapete meglio di me che cos'è una free bet e quindi questa operazione da 23 per 10 euro soltanto della differenza parla e mi dà a quota 21 un accumulo di questi di questi 20 euro che non sono più a rischio quindi se io mi segnano questi qui non li ho più persi però mi ha permesso di accumulare questi 20 euro che mi posso portare fino alla fine cioè li posso sommare alla cassa totale oppure meglio posso benissimo avere una operazione di 23 per 27.69 27.69 in back questa è la prima operazione appena mi arrivano coperto dal loader quindi non rischio un cavo appena mi arrivano a quota 21 vado a tradare questi 20 euro e 79 vado a tradare gli 8 euro previsti più i 10 euro i 10 euro di surplus che ho appunto in questa operazione mi stanno tutti chiamando in questo momento allora 27 io vado in lei a quota 21 quindi a primo step dobbiamo fare la chiusura per 8.63 più 10 18.63 guardate in pratica ho un incremento che tiene anche conto di questi 10 euro che ho salvato quindi l'ho chiusa in quell'ottica lì potevo benissimo andare avanti sapendo che mi è tutelato dall'over potevo benissimo continuare ad avere 27 in back come ho fatto e fare la chiusura di 8.63 di 8.63 cioè continuare sapendo in pratica che vado a rischio di dare il gol del primo di perdere questi 10 euro ma ovviamente nel giro di un paio di steppe di steppe 4-5 sicuramente 3 vediamo con 4 quant'è 8-9 10-14 17 ecco alla fine è il quinto step in pratica in lei ho recuperato tutto l'ammontare delle becche lo steak per arrivare a 17-69 per non perdere più nel quel caso mi segnano quindi 8-10 12-14 17-17 alla fine del quinto step quando mi arrivano in pratica a 8-63 io mi sono ricomprato tutte le varie operazioni quindi a questo punto l'utile che vado ad accumulare è senz'altro spammabile tenendo conto non di 17-69 in becche ma di 27-69 e non ho rischiato niente perché mi era tutelata appunto dell'over quindi se io vado in pratica a fare un masa in quest'ottica qui e gli affianco per esempio un altro masa che tiene conto solo di quei 10 euro che io ho giocato per differenza guardate eccolo qua cassa 10 euro la quaver 23 la copertura non mi interessa perché in questo caso sto giocando solo quelli 10 euro di differenza sembra un 16-15 resa alta 15 e guardate che succede in pratica questi 10 euro mi danno ah l'ha fatto il lei ah vecchiaia mia allora dicevamo 10 becche io c'ho solo i 10 euro che ho messo in palio nella prima giocata in surplus garantiti dall'over 2,5 la quota sempre 23 1 euro e 59 un over 1,59 16 15 15 15 guardate questi 10 euro mi danno una resa potevamo anche non metterci la copertura rifacciamo ancora scusatemi senza che metto la copertura dell'over perché tanto lavorano a se stanti quindi qui c'ho l'over qui devo avere sottanto una casa di 10 euro che camminano per i cavoli di oro quindi 23 e quota copertura 1000 non c'è mai una copertura e 20 perché non la metterò in palio e 20 totali 16 15 resa alta 15 allora vedete una resa di 7 e 58 mi dà la bellezza di 65 euro qui meno le tasse qui ha detto la 5% comunque mi dà un incasso 10 euro quindi un lotto di 75 euro di copertura sullo 00 cioè anche nell'eventualità della copertura dello 00 mi porto dietro questi 10 euro niziali è ovvio che devo far finta devo operare nell'ottica di giocare parallelamente cioè mentre faccio i primi 17 euro in back faccio anche a fianco i 10 euro di differenza che ho giocato in back il primo step lo devo fare di 8 63 da una parte e dall'altra di 4 54 quindi quando andrò a fare questa operazione non farò solamente lo step del mouse principale ma giocheremo anche questi 4 euro e 84 quindi la prima operazione sarà 27 garantita da tutti e due quando clicco su uno non mi si chiude anche l'altro la operazione in lei la devo fare di 4 84 a quota 19 oppure quando c'ho il mezzo step la parola a quota 21 per 4 84 più 8 63 e vado a fare le varie operazioni è ovvio che al goal guadagnerò solo da qui 75 euro più quello che riesce a guadagnare dall'ottica di questa operazione che avrei fatto normalmente senza tener conto di un over che mi tutela maggiormente quindi in pratica è vero sì che nel primo step non ho rischiato niente ma quello che ho salvaguardato in più tutelato dall'over mi permette di aggiungere ben 75 euro di utile in quel caso appunto finisca con un gol con un under 1,5 ma con un gol è ovvio che la copertura opposta è sempre fatta dai 82 euro e 31 dell'over 2,5 quindi è tutto uguale soltanto che ho voluto l'avvire di fare la prima operazione con un 10 euro in più in back poi come fare i vari step posso seguire in masa e quindi avere questo tele qui posso addirittura fare l'operazione paritaria quindi invece di giocarmi 4,74 mi gioco 10 euro direttamente in lei e fare i vari step successivamente oppure posso direttamente fare 9 10 euro in back a quadra 23 e 10 euro in lei a quadra 19 oppure se lo faccio alla fine del primo step a quadra 21 quindi principalmente era soltanto per dirvi che è tutelabile dal masa over dall'an dall'over che è dentro al masa non ho paura della consecutività è una condizione che metto dentro tranquillamente senza grosse rotture di scatole perché non ho questa preoccupazione mentre se mi ficcio 0-0 ho sbagliato quell'ottica questa sommata al discorso che facevamo ieri della consecutività posso mettere ovviamente 3 consecutività scusatemi consecutività in lei mi fermo a 2 e riesco a voidare la situazione se in quel caso invece mi fanno un singolo step senza il gol riesco riesco a massimizzare il gain vi ricordate l'esempio di ieri che avevamo appunto un 30% di guadagno soltanto un 30% nei confronti del 20 18% quello che sia se invece giocavamo sul tradizionale quindi le consecutività si sono un aggravio della situazione perché mettono una condizione in più però con questi scamotaggi non ci pesano minimamente cioè riusciamo senza nessunissimo problema a gestirle questo nel Masa Beck come vi ho spiegato oggi e nel Masa Beck come vi ho spiegato ieri non ho difficoltà a portare a casa queste situazioni quando oggi sono i 3 gol consecutivi e i 2 gol consecutivi usciamo andando a voidare qui in quel caso segno nel primo step usciamo e votiamo quella partita ma se non la votiamo ovviamente abbiamo saltato sia la consecutività del primo step sia la consecutività dei gol perché basta un singolo intervallo di step e abbiamo la sicurezza di portare a casa le 3 consecutività che aumentano ovviamente il gain non guadagniamo più di 18 euro noi guadagniamo 30 quindi è diverso operare con le consecutività o senza le consecutività è ovvio che io vi sto proponendo un discorso che voi non avete sotto mano in questo momento perché avete sotto mano il tradizionale vi serve per farvi rendere conto della potenzialità dell'ostrumento di rendervi conto delle degli scansaggi che si possono utilizzare per aggirare delle problematiche questo ci permette di operare tranquillamente senza tante pippe mentali senza nessuna difficoltà e senza sentire i soliti coglioni che parlano di qualcosa che non conoscono si tu metti dentro le consecutività ma è un rischio in più perché appunto le condizioni nessuno ti regala niente quindi è normale che anche uno strumento come questo ti potrebbe dare delle problematiche abbiamo detto e abbiamo dimostrato in queste due lezioni si esistono le problematiche delle consecutività ma possono essere annullate se non almeno ridotte e quello ridotto ovviamente a fronte di un resa molto maggiorata perché non è uguale vincere 30 euro oppure vincere 18 ovviamente questo è solo un esempio ci sarà anche l'avevo accennato anche la possibilità di vedere come eventualmente andarci a parare il culo anche nella situazione del 0-0 ci saranno dei scamodaggi che ovviamente andremo a vedere più avanti ovviamente li andremo a vedere senza che qualcuno più avanti ci chiedesse 25 euro al mese per un trading approfondito o delle stronzate che sto leggendo in rete è ovvio che è bello farsi grandi proponendo qualcosa di totalmente gratuito come qualcuno ha iniziato a fare e poi trovarsi a metastrada e a dire bene ragazzi se oggi volete continuare sì qualche contenuto lo manderemo lo stesso gratuitamente ma se volete qualcosa di professionale dovrete riuscire a pagarvelo bello sono contento che solo dopo tre mesi esce fuori questa situazione il sottoscritto scrive gratuitamente online fate una gecca su google scrivete max azard e vedete che il primo post è sottoscritto è su newsgroup nel 1998 e da quel giorno i contenuti che leggete firmati max azard li avete sotto mano gratuitamente da 22 anni non due mesi non a stronzate che uno si alza mattina oggi faccio i contenuti gratuiti poi avere dei contenuti che mi dispiace un po' parlare di altri personaggi ma avere dei contenuti in cui ci riduciamo a fare un mero pronostico ripeto per il sottoscritto pronosticare non è operare in trading non è scaglionare gli interventi non si chiama trading il fatto che io faccio un pronostico e faccio il cash out quando sono doppiamente coglione perché ho fatto il cash out su un pronostico e quindi a quel punto o l'ho periziata bene che suggerisce qualcuno e se l'ho periziata bene la porto fino alla fine faccio il pronostico perché mi devo ridurre a guadagnare il 30% quando ho indovinato e la squadra che avevo previsto è andata in vantaggio sto facendo il pronostico sappiamo che i pronostici portano a zero zero anche pinnago che è pinnago fa void perché stima nella maniera opportuna le probabilità di quell'evento esce il primo fenomeno che dice io sono un grande pronostificatore e vi riuscirò a insegnarvi come periziare queste partite se fate le vostre perizie e non portate soldi diranno non siete stati capaci di periziare egregiamente quella partita non avete studiato è un percorso lungo imparerete a fare questo imparerete a fare quell'altro per adesso iniziamo a farlo gratuitamente se volete fra un po' mirate 25 euro e facciamo una masterclass approfondita vedrete degli argomenti che non avete mai visto quando suggerisco a questi signori di chiedersi quanti anni avevano nel 2002 18 anni fa chi ha 20 anni adesso 22 anni 24 anni andava all'asilo e non so se il cestino lo portava a casa lo portava all'asilo da solo o lo accompagnava la mamma questa è strada se uno fa trading e ancora sta a fare trading se non aveva risultati aveva smesso sin da tempo ma a me non è che mi interessa io sono arrivato ad un'età in cui me ne sbatto le palle di tutti quanti continuo a fare quello che ritengo opportuno chi vuole contenuti gratuitamente e continuerà a farlo come l'ho fatto dal 1998 leggetevi i forum di infobetting e andate su bet4bet4win andate su bet4bet andate do cavolo e vale oltre ai blog personali e ai newsgroup come dicevo a tutti i social vedete i contenuti elargiti dal sottoscritto e di questi contenuti non è che me ne venivano in tasca 5 euro perché sono ancora lì sono ancora gratuitamente disponibili ricerca google l'hanno inventato per fortuna anni fa e quindi diventa semplice andare a fare una ricerca su quello che è in rete dal 1998 non due mesi fa non scopiazzato da questo o quest'altro non passato come grande insegnamenti ricevuti all'estero oppure da professionisti se i professionisti insegnano a questi nuovi guru il trading fatto a livello pronostico presumibilmente anche questi elargitori di grandi conoscenze avranno delle pecche non indifferenti il trading non è pronostico se io voglio fare il pronosticatore mi metto a fare il pronosticatore più semplice di questo più facile di questo come al solito colgo l'occasione per salutarvi e ci vediamo domani per altri contenuti ah dimenticavo gratis ciao se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale cliccando qui in basso all'interno del logo e sarete automaticamente aggiornati qualora nel canale stesso vengono aggiunti nuovi contenuti grazie